E a Terra Nuova Bracciolini non si pagherà una soprattassa se entro il 30 giugno si salda il conto con la Tasi. Siete in ritardo sul pagamento della Tasi a Terra Nuova Bracciolini, nessuna sanzione, ce lo assicura l'assessore al bilancio Gabriele Morandini. È una decisione che avete preso in giunta? Sì, è una decisione che abbiamo preso in una precedente giunta in considerazione delle difficoltà applicative di queste norme statali che sono state modifiate i primi di maggio e per venire incontro a tutti i contribuenti abbiamo deciso che non verranno applicate sanzioni per i tardati di pagamenti se il pagamento interviene entro la data del 30 giugno. Abbiamo dato di fatto 15 giorni in più ai contribuenti per mettersi in regola con il versamento. Chiaramente chi dovesse andare oltre il 30 giugno dovrà pagare qualche piccola mora ma che con l'istituto del ravvedimento per osso sono cifre ancora molto piccole se si paga entro 30-60 giorni.